Ho visto elementi migliori della mia generazione, entrare in pubblicità, copywriter, account, reparto marketing, ricerche, print benefits, ti chiamo Yoda Sadler, giocare che la morte non c'è più, non c'è mai stata, in caipirina veritas, per me la borsa dopo la cattolica, al meglio tutto o niente, spezzatura, al prezzo di controllo, penny stock, Japanese candlesticks, doji, arani, entrare nell'ufficio con il sole 24 ore e il manifesto sotto lo stesso braccio, pausa pranzo, fitness, chill out, agenda planning, c'è un appunto, telefonare al vecchio che sta male, prezzo ufficiale, agio di emissione, buck to be ratio, overweight, Dow Jones, non ci pensare, non pensare a niente, catastrophe bonds, step up, step down, intanto coprirsi le vergogne con campagne sociali, indignazione dei TG, l'angola, il burca, voto radicale, tenere sempre chiuso quel cassetto, covered warrants con l'effetto leva, opzioni ISO alpha, trading furioso, ricopertura, futures infiniti, chiedersi perché io, perché a me, puoi mettere la diagnosi sul tavolo e piangere come gli altri, come tutti, ma tua moglie è più bella, portofino, il giorno dopo subito delisting, stop loss, take profit, downgrade, la prudenza non è mai troppa, il target price è basso, ascolto una canzone dei Pink Floyd a rendimento ponderato lordo, break even, ora ho quattro cellulari, il rubinetto perde, anche stanotte non mi ha fatto dormire, forse è meglio, visto che faccio sempre brutti sogni, di quella volta che battevo i pugni contro una porta chiusa a 5 anni, hedge funds, minimo 500 mila, troppi per me che sono nato povero, in un mondo di alghe e di canneti, e certi giorni penso al pescatore che mi fece un discorso tutto strano e mi guardava il coso, profit warning, oggi il MIP30 è una consolazione, mi raccomando l'ordinario 2, average revenue per user, spread, mi danno gusto solo i legal thriller, mio figlio ha dei problemi di aggiottaggio, non so più niente, non capisco un cazzo, non c'è più niente da capire ormai, il mondo va in frantumi, ma io oggi sono felice, che ci posso fare? Sento come un solletico nell'anima, margine operativo lordo all'indice, sono un raider del cuore, mi innamoro, vado una volta al mese da mia madre che dice peste del mio babbo morto, stock option ADR, public company, all'expiration date la infilerò dentro il suo loculo accanto a quell'altro, e mi sentirò buono mentre piango su due destini finalmente uniti, ma le blue chips, il trading intraday, mi aiuteranno a coltivare il lutto, book value, underweight, market perform, la sinfonia del mio dolore di oggi, telefonare a Christian per le 6 per prenotare le due ragazzine, aumento il capitale, double dip, esegui quantità minima al prezzo, ho i denti, uno splendore, ma i capelli li ho persi tutti prima dei 30 anni, sono nato in un'era fortunata, a volte metto un pezzo col repeat dei tempi del liceo e mi commuovo, vorrei che mi vedesse come sono adesso, lei e gli altri, i miei compagni, le facce della foto nel cortile sotto la statua del parino, tutti, ma più che altro lei, solo lei forse. Grazie.